Amici sportivi buonasera e benvenuti a questa presentazione del Mediolanum Baby Cup l'ultima domenica di settembre e tutte le squadre e tutte le società che prenderanno parte a questa meravigliosa manifestazione sono pronte a sfilare qui a Piazza del Popolo a Latina. Sono pronte a salire sul palco, una manifestazione che ormai ha preso prepotentemente piede qui a Latina, la sesta edizione e ci sono numeri record, molte società hanno confermato la propria partecipazione e tante altre hanno deciso di iscriversi quest'anno. Sono quasi 40 le società iscritte, oltre 100 squadre, 5 categorie dai 2005 ai 2009 e adesso cadavultiamoci, tuffiamoci per questa presentazione, per questa sfilata e soprattutto per tutti questi ragazzi. Sono decine e decine che sono pronte a salire sul palco. La presentazione del sesto trofeo, giusto, del sesto campionato, trofeo Mediolanum Baby Cup e qui ci sono tutte le squadre che lo andranno a rappresentare quindi è giusto che Lopez dia un riconoscimento a quelle squadre che partecipano. Antonio Palluzzi di Priverno, prego ragazzi venite a fare la foto e a ritirare il riconoscimento consegnato qui dalle mani del nostro Davide. Allora, aspetta, per le foto ci mettiamo, è indifferente, qui va bene, tanto voi vi siete spostati. Prego, prendete tutti il centro del palco che prendete il premio, il riconoscimento, la targa e facciamo le foto di Rito. Io mi sposto perché, insomma, con lo sport e soprattutto col calcio ho poco a che fare, quindi non vorrei rovinare questa foto, visto la mia fisica di roll. Buonasera, buonasera, benvenuti. Buonasera, prego con le foto, procedete pure. Scusate. Io non vedo se sta accadendo la consegna della targa, questi sono grossi, pure da piccoli, quindi non riesco a venire avanti. Velocizziamo il rito delle foto perché i ragazzi e i bambini sono sotto la pioggia, quasi, pioggia in realtà, sembra che sta uscendo il soggetto. Dall'altra parte, sotto il colonnato dell'intendenza di finanza, nel frattempo ho preso una goccia dell'acqua nell'occhio, stanno continuando le esibizioni, è la volta dell'hip hop con Benito Merlo, quindi o appena finito o se vi interessa già da adesso potete vederli di là. Noi purtroppo, causa maltempo, dobbiamo unire tutte le esibizioni che avevamo diviso e dislocato nel tempo qui sul palco, ma non si può ballare, quindi lo fanno di là. Nel frattempo è arrivato il momento di, siamo pronti per salire, ASD Norma Calcio. Prego ragazzi! Mentre loro salvano un'altra comunicazione di servizio, lì c'è un campo allestito per il volley e dell'associazione ASD Top Volley. Giustamente della Serie A, quindi va elogiata a dovere, quindi potete trovare l'associazione della Serie A del volley, di lì o di là, che dir si voglia, c'è allestito il campo da volley appunto. Nel frattempo, foto con l'ASD Norma Calcio, che anche essa parteciperà al sesto trofeo Mediolanum Baby Cup. E quindi ridirano anche loro il giusto riconoscimento. Io metto qua, ad alto, non mi vedono, dietro la copertura. Di qua! Grazie mille ragazzi! Procediamo con la prossima squadra, con ASD Real Marconi Anzio. Altra foto. E così viene il campanile con l'esplosione. Fate un grande sorriso. Anche perché il fotografo sta facendo le foto più difficili della sua vita, proprio sull'orlo del baratro. Sapete che ho visto per nattro? Pericolante. Grazie mille ragazzi. Invitiamo a salire il Real Marconi di Anzio. E diamo il cambio. Ricordando che sotto l'intendenza di finanza c'è la dimostrazione di pop con Benito Merlo. Qui c'è il campo di volley dell'associazione Top Volley di Latina. E tutte le altre manifestazioni che si svolgono all'interno di tutta l'isola pedonale, che poi andremo a ricordare. Eccoli direttamente da Anzio il Real Marconi. Buonasera ragazzi, benvenuti. Dei calciatori in miniatura. Loro hanno proprio l'aspetto dei calciatori. Ma non la faccia da calciatore. Foto scattata, targa ritirata. Fatto tutto? Possiamo andare avanti? Andiamo avanti con l'ASD Fight 2014. Grazie mille ragazzi. Fate piano che si scivola. Abbiamo bisogno delle vostre gambe. Prego, ASD Fight potete salire. Ah, 2004, io ho letto 2014. E lo so, oggi è la mia giornata no. Le sto dicendo tutte insieme in fila. Le cavolate non le ho lasciate nemmeno una. Mi ricordo anche che qui a fianco a me, alla mia sinistra, c'è Pinco Panko che vi aspetta. Palloncini, trucchi e tanto divertimento. Bene, no? Poi facciamo lo spot per la radio, tranquillo. Pinco Panko vi aspetta. Ah, ah, va bene così. Prego, prego, prego ragazzi, con la foto di Rito. Nel frattempo hanno portato proprio la loro curva ufficiale e continuano ad applaudire. Chiede un'infinità. Siete sei squadri in una voi. Nel frattempo, siccome siete tutti dei piccoli calciatori in erba, noi vogliamo ricordare che qui ha a disposizione il calcio balilla umano. Quindi un invito anche alle società che sono qui ad accompagnare i loro piccoli talenti. Una volta fatta la foto e ritirata la targa, potete usufruire del calcio balilla messo qui accanto e giocare tutti insieme per rendere più sportiva ancora questa giornata. Le foto vengono da ogni dove. La targa è stata ritirata. Possiamo andare avanti. Grazie mille ragazzi con AS Virtus Cisterna. Grazie ragazzi. Fate piano che si scivola. State attenti anche voi. Sentiamo la musica, quindi credo che l'esibizione sotto l'intendenza sia appena iniziata. Nel frattempo ricordo di dare un'occhiata anche a tutte le altre attività presenti qui in piazza con la top volley, con il calcio balilla, con Benito Merlo e la dimostrazione di hip hop. Vai, vai, fa niente, voi siete dei calciatori, fa niente che è bagnato. Consegna della targa con relativa foto. Mamma, ci stai a fare il video. Sì, il video, vai. Applauso di Rito, possiamo andare avanti e aspettiamo la ASD Sermoneta Calcio. Grazie ragazzi. Fate piano sulle scale, mi raccomando. Sermoneta Calcio sta salendo per ritirare la targa. Ritiro della targa. Andrea. Il fatto giusto. Riti. Da giù dicono ridi. È una foto, tranquillo. Sorridete e prendete tutte le foto che meritate. Andiamo avanti nel frattempo con... Andrea. Accademia Sport. Sono invitati a salire sul palco. Voi intanto credo che le foto siano state fatte. Sì, perfetto. Potete scendere. Grazie ragazzi. Lo so che vi piace fare delle foto come i calciatori, che state mezz'ora così. Quelle poi andranno un giorno. Anche voi sarete un giorno sull'album delle figurine, tranquilli. Intanto fate piano a scendere le scale. E attendiamo qui sul palco Accademia Sport per il ritiro della targa e la foto di Rito. Intanto voglio ricordarvi perché stiamo facendo queste foto, questa sfilata e questa premiazione. Perché è la presentazione ufficiale del sesto trofeo Mediolanum Baby Cup. Sì, sì, l'ho già detto, Accademia Sport. Sesto trofeo Mediolanum Baby Cup. Loro ricordiamo che sono Accademia Sport. Prego. Che non è una premiazione, come si può pensare, perché prima l'ho detto, ho sbagliato anch'io. Ma è un ringraziamento ufficiale che la Opes fa a questi ragazzi che giocano con noi. Sì. Va bene questa formula? Non la potevo di meglio. Mi sono impegnato. Quindi andiamo avanti. Ecco le foto anche per Accademia Sport. Il ritiro ufficiale della targa che ringrazia questi ragazzi. E possiamo andare avanti, credo sì, con la S Gila Soccer. Aspettate che scendono. A sinistra e fate piano. Le indicazioni sono a sinistra, piano, almeno sulle scale. Ecco la S Gila Soccer sta salendo. Prego, è il momento della prossima squadra. Piano ragazzi, attenti. I più grandi dietro, anche per loro, ritiro della targa e foto di Rito. Grazie. Grazie. Cristiano. Ok. È arrivata dopo la voce, perché io ando da dietro. Bravo, Robby. Jacopo. Sorridi, Gia. Ecco. A telefoto, possiamo andare avanti. La targa è ritirata. Tendiamo sul palco la polisportiva annunziata a Sabaudia 2015. Ho indovinato? Che memoria. Aspettate. Fate piano e andate a sinistra. Un giorno li troveremo anche loro sui mazzi schermi Sky. Eccola. Ripetiamo che loro sono la SD polisportiva annunziata a Sabaudia 2015. C'è una memoria di ferro oggi. Prego ragazzi. Ecco lì. Prego, prego, prego. Ecco lì. Prego, prego, prego. Guarda qua. Ok, ci siamo. Siamo per ritirare la targa. La foto è di rito. Grazie mille ragazzi. Scendete piano, mi raccomando, che si scivola e andate a sinistra. No, non parte. E' un'altra, è 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 un'altra. Scendete, scendete, scendete che vi aspettano giù. E sta per salire la US Samagor. Prego, i mini calciatori, loro sono i portachiavi dei calciatori. Prego ragazzi. Che spettacolo. Ecco la targa, anche per la... Stavo perdendo il fiato. Per la Samagor. La foto è stata fatta di qua e anche giù. Possiamo scendere, grazie mille ragazzi. Mi raccomando, fate piano che si scivola e andate a sinistra. Sembro lo steward dell'aereo. Fate piano a sinistra. L'uscita laterale, l'uscita d'emergenza. Sì, adesso è il momento di San Pietro e Paolo Latina. Con questo viso angelico, con questa meravigliosa mascotte qui. Con la felpa della Roma, sportivi si nasce. Mica si diventa. Sono giusto due loro. Guarda, un accenno di una squadra. Gli altri non potevano... Oggi erano un po' malati, visto il tempo. Se sono tanti, fatele metti vicino alla Fontana, che facciamo la foto da lontano. Pensa se era bel tempo, mi dicono. Ammazza. Ma voi giocate tutti insieme una partita? Cioè, tipo che arrivate e sfondate tutti? Eh, vincete sempre voi, allora. Fate 50 contro 5 e avete vinto. Va bene, scusa. Abbasserò la voce per te. Va bene, tanto se sali non senti, quindi posso... Ecco, loro dobbiamo aspettare almeno 20 minuti prima che salgono. Quelli che stanno giù stanno ancora col fuso orario. Ti piacciono? Li vuoi? Poi quando li tolgo, te li do. Quando scendo, te li metto lì sul tavolo. Vai, ricordati. Prego ragazzi, prego. Se te togli però... Loro possono fare un torneo da soli tra di loro. C'è proprio un trofeo. Prego, San Pietro e Paolo, bravi. Fate un applauso, guardate che squadrone. Foto di Rito. Ce ne vogliono almeno 7 e una deve essere panoramica. Ritiro della targa. E abbassa con la bocca. Foto fatte, targa ritirata, grazie mille ragazzi. Adesso, fate piano e andate a sinistra. Piano a sinistra. Se andate forte vi fate male. Sì, va bene qui. Nessuna. Io sono del San Pietro e Paolo. E' un po' più famosissimo. Liberiamo la scala e lasciamo il passaggio alla S di Real Maenza. Prego ragazzi. Bravi. Vai con l'applauso. E' la nostra squadra. E' ne dopo questa. Sì, è la... E' la... Prego, prego, prego. 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 Anche per voi, per il Real Maenza, foto di rito e ritiro della targa. Grazie mille ragazzi. Adesso è il momento di... Polisportiva Bassiano. Buonasera ragazzi, benvenuti. Grazie al Real Maenza. A presto. Scendete piano e andate a sinistra. Grazie mille a voi. Attenti alle scale che si scivola. Fate piano. E' un po' più. E' un po' più. Foto di rito e ritiro della targa. Come ringraziamento per la partecipazione alla sesta edizione del trofeo Mediolanum Baby Cup. Che inizierà questa stagione. Quando inizia il torneo? Ufficialmente. Il 18 ottobre avrà inizio ufficialmente il torneo, il trofeo Mediolanum Baby Cup. Mi raccomando. Applauso. Targa ritirata, foto fatta. Possiamo scendere. State attenti, fate piano e andate a sinistra. Eccoci. Prego, 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 prego. Sale una rappresentanza, soprattutto la quota rosa. Perché le donne ci sono nello sport e sono presenti. Calcio, sezze. Buonasera ragazze. Buonasera. Vengono a ritirare loro in rappresentanza di tutta la squadra. Eccola la targa e la foto. Grazie mille. Grazie. Eccoci. E' la volta dell'ultima squadra, non per ordine di importanza, ma per ordine casuale di sfilata. ASD Norba. Prego ragazzi, salite qui sul palco. Buonasera. Benvenuti. Benvenuti. E nel frattempo hanno approfittato del calcio barilla umano. Non si sono fatti sfuggire questa opportunità. Foto e il ritiro della targa anche per la ASD Norba. E con questo chiudiamo questa sfilata per presentare la sesta edizione del trofeo. Mediolanum Baby Cup che avrà inizio il 18 ottobre. E vi ricordiamo le manifestazioni presenti qui all'interno di tutta l'isola pedonale. Grazie mille. Foto fatte. Targa ritirata. Grazie.